Finalmente, sei arrivata, eh! Ora vi spiego le regole del gioco. Nella prima schermata dovete scegliere il vostro killer. Ora non ti resta che scegliere l'arma. Questo gioco è una figata, questa volta Tommaso ti sei superato. Hai appena ucciso il signor Renzi, era un caro amico di mia madre. Vai, dai, tranquillo, è solo un gioco. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Grazie per la visione!